Salve a tutti ragazzi bentornati sul canale di quel taleale eccoci qui di nuovo con destroy all humans riprendiamo da dove ci siamo lasciati abbiamo a disposizione una nuova missione quindi sempre a santa modesta direi di partire subito mi raccomando voi come sempre lasciate like e condividete per questi video siate sportiveggianti e che l'alieno sia con noi il nostro buon cripto eccolo qui guardale lì suburbia e superbia anche col gelatino ormai siamo veramente dei pro io sicuramente avrò dei problemi a ricordarmi tutte le combinazioni di tasti perché non è che sto giocando proprio di seguito seguito quindi naturalmente i video ve li andrò ad alternare con le altre serie in corso ma comunque se vi garba moda fast food americana gli scienziati del governo in cucina per la lotta al comunismo ma come la lotta al comunismo in cucina col fast food? adesso lo dicono loro va bene eh noi facciamo del nostro signori si infatti dobbiamo specie di agenzia segreta scansione a gli scienziati allora facciamo così allora fermi tutti prima di tutto secondo me conviene fare una cosa del genere eh e noi con stile eh no questo no eh ho sbagliato signore perché volevo fare un attimo di che fanno gli scannerizzi questi scusa attenzione qua e non ce la facciamo passata allora eh cerchiamo di scansionare gli scienziati senza farci beccare comunque da questi eh aspetta devo aspettare che scendano bellissimo comunque il camioncino eh glielo dico aspetta che faccio pure così perché se no eh pensa tu allora aspetta che c'è quello lì però devo stare comunque un attimino accorto dalla distanza ce la facciamo ok perfetto no 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 ma la signora che sta pescando non ci ha visto apparentemente no ok comunque va bene entriamo nel disco volante distruggi lo star di inner a dobbiamo distruggere tutto ma qual è il problema signori ci siamo che fa allora ok a posto dopo di che dopo di che aspetta assorbimento ma assorbimento in che senso uccidi gli scienziati al cast di inner va bene se faccio anche così? vi dispiace? sta a guardare il capello allora 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 piano 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 ok ok aspetta che qui ci sono un sacco di scienziati eh direi che ci siamo direi che ci siamo molto bene quanto siamo cattivi comunque vabbè che pure loro eh questi scienziati ma scusa non avevamo ciucciato il cervellino a questo? non questo quell'altro un po' stupidotto ma scusa non avevamo ciucciato il cervellino a questo? non questo quell'altro un po' stupidotto certo non che sia stato un gran guadagno però allora eh ok però me li devi segnare ah stanno la ok ehm obiettivo è distruggi le risorse dell'esercito ma risorse dell'esercito cosa? eh il fatto è che non è semplice ah ok da dove arrivano? è una parola aspetta il carretto il carretto dove sta? pure questo vale eh e niente aspetta eh ho capito ma non è facile aspetta fatemi recuperare un po' di salute da guarda questi e niente eh siamo un attimo messi male allora aspetta il carrettino dove sta? eccolo qua ok aspetta aspetta porta dentro la gente per interrogarlo un attimo che provo a recuperarmi un po' di salute ok guarda questi aspetta la gente dov'è che sta? ce ne stanno? ah no lo devo prendere da qua ok aspetta un attimo intanto già che ci siamo allora un momento che ho dovuto ripulire la zona che mi stavano massacrando e devo capire pure come lo piglio questo faccio così? va bene? ok oh a posto forse ce l'abbiamo fatta ah 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 go to hell Klaatu a cosa? sorry let me put it in baby talk a flying saucer crashed somewhere o er captured non 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 ma 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 Suona male, suona male. Suona male, suona male. Ok, vabbè, il nostro l'abbiamo fatto, abbiamo trovato quello che ci serviva, molto bene. Agente governativo rapito? I sovietici negano la defezione di una spia. Ok, ok. E qui c'è sempre un po' di lotta al comunismo. Allora, vediamo un attimo al disco volante che possiamo fare. Disgregatore quantico, scudo, aumenta la potenza dello scudo e il disco volante. Beh, magari questa inizia ad essere pure utile. Facciamo così. Allora, nuova missione. Allora, andiamo nella nuova zona, dai. Andiamo, andiamo. Qui ho detto, ci facciamo un po' di missioncine in ogni episodio, tanto sono anche abbastanza brevi, a parte le parti che devo rifare, perché questa missione, quello lì, mi faceva una brutta fine ogni tre per due, ma non è colpa mia. Si metteva in mezzo alle esplosioni, ogni tanto è partito qualcosa che ho lanciato e l'ho preso sulle gengive, ma non è colpa mia. E che ti fai prendere dal momento, dal fomento. Aspetta, aspetta che arriviamo noi. Perché, se non fosse per la giù jointe da l'arrivo, io non ho mai avuto i nostri occhi. Tu hai detto un pollo, cupcake. C'è un mondo di tutto qui, e noi stiamo perdendo. Ma dove possiamo andare, Billy? Questa è una una-data per i nostri figli di tecchi come tu e me. È un po' di me parto! Ce che hai bisogno è una nuova direzione. Exacto. Un'unico in vita. Freak'è! Ever thought about homeland protection? Home what? Wise up Romeo, there's a half a billion reds who'd love nothing better than to rip that varsity sweater right off your back. No kidding. Take this little pamphlet, it'll tell you everything you need to know about protecting your little corner of the country from communist invasion. Thanks a million daddy-o. Freakin' A. Wow, there goes a real American. A real American dreamboat? Meow. E niente, questo è quanto. That's the last of them. Must have papered every JD in this stinking berg. And our little film strip? Spooled up and ready to go. The pimply projectionist is none the wiser. Ha ha ha. Won't those kids be surprised when Abbott and Costello turn into Jimmy and Johnny Commikiller in Reel 6? Good work, agent. And not a moment too soon. We need to be in Santa Modestra yesterday. Don't break for yellow. Read me. Loud and clear. Sounded like secret agent man was taking orders from the one in the battles. Mmh. Volendo possiamo, eh. Che ci dice? No, eh? Eh, vabbè. Sounded like secret agent man was taking orders from the big screen. Sounded like secret agent man was taking orders from the carbon combustion transport in and then view projected images for the purpose of entertainment. Sounded like secret agent man makes perfect sense. Sounded like secret agent man was taking orders from their own devious little game. Sounded like secret agent man was taking orders from the cubes. Sounded like secret agent man was taking orders from a dependable corner of the 작품. Sounded like secret agent man was making a vineyard. Sounded like secret agent man was taking orders from the to work of the captain of the battles. e ci danno appunto 100 punti dna che io non avevo no non sapevo cosa fossero sti cosi magari me l'avete già detto sicuramente però mi è capitato adesso di beccarlo scusate attenzione andiamo al drive in va uccidi gli agenti di guardia al drive in va bene sarà fatto ma posso fare così eh facciamo prima allora dopodiché aspetta che potevamo fare anche con qualche esplosione fomentosa facciamo così scusi eh ok c'è gli agenti guardi al drive in fatto e eccoci prendi il film ok vai con la proiezione ma così ok Uccidi un agente con un poliziotto Uccidi un poliziotto con un agente Aspetta No Eh Aspetta questo che c'ho che cos'è E niente No non ce la facciamo Eh mi scusi lei ma Quelle facoltative mi sa che facciamo di dare Questi sono tutti agenti Vada via Vabbè quello che siamo riusciti a fare Abbiamo fatto signori pazienza Era un po' una cacciara Impazza la furomania Casa furon Qualcosa per tutti Ma come casa furon Ma che cos'è Allora allora Oddio anche questo degli scudi Che al momento stavamo un po' così Livello di scudi Poi anche un po' lo scatto Ma direi di andarci a fare un'altra missioncina Vai va Eh ci siamo signori Riapprofittiamo Alienando verso sud Va bene Cioè tipo Intrigo internazionale Questa copertina Bellissima Bellissima Questo in questo caso Intrigo interstellare Ok Uccidi gli umani Distrugge Distrugge Ah ok Eh Oddio Troppo danno E come faccio Scusa Aspetta un attimo Vieni qua Mi sa che devo prima Fare una cosa del genere No scusi Facciamo così Alla macchina Così la L'ammacchiamo prima Abbastanza Forse Ok Scusate Già che ci siamo Ok Adesso distruggi Veicoli Così a caso Madonna mi sono ammazzato Da solo Ma va bene E La Oh Così almeno ci regoliamo Un po' meglio No ho finito le munizioni Bene uguale Scusate Eh ma sapete Che il sole fa male Dove vai Avete preso Troppo sole Veramente troppo 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 sole Vabbè va Ho ballato tutto Vedo ieri Un attimo Scusate Scusate cari Ottimo 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 Grazie cari Distruggi le risorse Della magia estica E anche così Oddio 20.000 Credo che Sia più legato Alle proprietà Che Ad altro Quindi Un attimino Ci attrezziamo Così E Un po' Sì Grazie caro Questo mi serve Aspettiamo Che si avvicini Un altro po' Questi Ok Oh Sì Scusate cari Ma Ci devo lasciare Per quanto Sia stato divertente Va bene tutto Vai che ce la fai Vai che ce la fai Grande Così che li seminiamo Oh Ah avevamo parcheggiato Proprio qui in centro Va bene Distruggi Un edificio Con un agente Della majestic E come faccio Un edificio E dove stanno Gli altri Ma ce l'ho Un'altra Scusa Stiamo a fa Ok Allora Adesso Intanto Eliminiamo Sti goals Poi No tu Fai così Tu Vai via Gente della Majestic Dov'è Non so che fine Abbia fatto Facciamo così Magari Anche questi Funzionano Per Edificio Tutto fa Brodo Magari E' questo Edificio Che dobbiamo Distruggere Con Gli agenti Apparentemente Funziona Molto Relativamente Questa cosa E non esplode Sto coso Dai Vabbè Non fa Niente Ok La facoltativa Non fa Niente Ok Ok Molto Bene Molto Bene Eh Quella La Non siamo Riusciti A farla Misterioso Incendio Distrugge Motel Responsabile Dalla Colpa Agli Alieni Le Autorità All'impianto Elettrico Ad ognuno Il suo Come dire Ognuno Ha il suo Perché Allora Allora Andiamo Allora Allora Scuti Crippo Diventa Momentanamente Indistruttibile Dove Aver Subito Un colpo Vai Vai Così Ci piace Poi Lo scatto Vai E facciamocene Un'altra Va No Che cos'è Anzi no Andiamo troppo Per le lunghe Mi sa Va bene Ragazzuoli Dai facciamo così Per oggi Ci salutiamo Qui con questo Episodio Voi mi raccomando Come sempre Lasciate like E condividete Seguitemi su tutti I social Anche sull'altro Sito per live Sul secondo canale Dove riporto live E non solo E niente Ci vediamo alla prossima Dai ragazzi Fatemi sapere Come detto Se volete altri episodi Non so se ve li sto postando Sul primo o sul secondo canale Seguitemi su entrambi Ci vediamo alla prossima Saluto a tutti Da quel taleale Grazie a tutti